Debora Jurato e Giovanni Gaccamo gareggiano in duetto al festival di Sanremo e sono dati favoriti per la vittoria finale dagli scommettitori. La canzone che presentano si intitola Via da qui ed è stata scritta dal cantante dei Negramaro Giuliano Sangiorgi. Gaccamo è reduce dalla bella vittoria dello scorso anno nella sezione di Sanremo Giovani Promesse dove si è fermato con il brano Ritornerò da te. Inoltre il cantautore siciliano di Modica scoperto dal grande Franco Battiato nell'edizione di Sanremo del 2015 ha conseguito anche altri prestigiosi premi e riconoscimenti. Il premio della critica Mia Martini, il premio Emanuele Luttazzi e il premio sala stampa intitolato Lucio Dalla. Gaccamo ha anche scritto la canzone Adesso è qui con cui Marie Cayenne ha vinto il premio della critica Mia Martini dei pick, ottenendo anche il terzo posto assoluto. Debora Jurato invece nel 2014 ha vinto Amici di Maria De Filippi e cerca a Sanremo un'altra preziosa ed importante affermazione. I bookmakers della SNAI indicano una coppia super favorita per la vittoria finale al festival con la quota di 3,5 volte la posta, sopra Noemi e Francesco Fragola quotati a 5. La sinergia dei fan poi potrebbe portarli agevolmente al successo considerando anche il carisma e la bravura tecnica dell'autore San Giorgio.